La città capoluogo diventa dal mio punto di vista un'ingiustizia perché non si dà a tutti la pare opportunità, perché le esigenze che hanno questi territori ce l'hanno anche città come Fano, ma anche città con più abitanti che non possono accedere. Servono equità e rispetto per il sindaco di Fano Massimo Seri che ritiene intollerabile che importanti risorse arrivino esclusivamente alle città capoluogo tagliando fuori le cosiddette città medie ritenute il fulcro e il cuore pulsante del paese. Una disparità di trattamento che per il primo cittadino rappresenta un freno allo sviluppo e alla crescita di tanti comuni a discapito di circa 6 milioni di italiani. Tengo che tutte le comunità devono avere le stesse opportunità, gli stessi diritti, come noi lo facciamo con i nostri concittadini, chi rischia di rimanere un passo indietro deve essere accompagnato. Pensate nella regione Marche, Ancona e Peso sono due città capoluogo con un maggior numero di abitanti, poi c'è Fano che è più grande di altre tre città capoluogo, di tutte le altre e a questi bandi non può partecipare. Ad esempio al bando periferie, spiega Seri, o a quelli per la cultura, l'innovazione sociale, la rigenerazione urbana o i bandi dedicati a sostegno alle imprese. Le risorse del governo sono di tutti, ribadisce il primo cittadino, e non soltanto di pochi o meglio degli stessi. Infatti negli ultimi anni i criteri sono sempre stati sbilanciati a vantaggio solo dei comuni capoluogo. Quello che Seri chiede con chiarezza sono nuove regole per l'assegnazione delle risorse pubbliche, modalità di accesso che tengano conto del numero di abitanti e della superficie territoriale. Lo scriverò innanzitutto al presidente di Anci, che ci rappresenta, lo manderò ai colleghi delle città che hanno le nostre stesse caratteristiche. Perché dico tutto questo? Perché oggi si apre una nuova partita, Se prendiamo Fano, per la popolazione, tutte queste città capoluogo che partecipano, un terzo hanno meno abitanti di Fano. Se guardiamo la superficie quadrata, il 50% delle città ha meno superficie quadrata di Fano. E noi non abbiamo potuto partecipare a queste. Non sono stati grandi, tanti bandi. Sono stati pochi, ma significativi, con tante risorse comuni, che hanno preso anche 10 milioni. E quindi io penso che tutti debbano avere, che abbiano le stesse caratteristiche e l'opportunità e la possibilità. Grazie.